Ciao Cristina, buongiorno. Vedo un braccialettino molto carino, che cosa sarebbe? Sì, è un bracciale che si chiama My Life, My Passion, in questo caso declinata la passione del golf. Un'azienda giovane che ha creato questo marchio per identificare una passione della propria vita. Quindi chiunque che lo compri è riconoscibile perché ha una passione, in questo caso il mondo del golf. E alla cena del Fonte Vivo li metti tutti nell'espositore da poter vedere? Sì, c'è un espositore, 34 colori diversi, prezzo al pubblico 29 euro, quindi proprio una cosa minima. Ci puoi fare la doccia perché non si rovina, è argento, c'è un bello ghettino, un ottimo regalino da fare, anche perché la confezione, il packaging, è una scatola di ferro che diventa portati e portamarchino, quindi tutto inerente al golf. Intervenite numerosi alla cena perché ci saranno dei previ. Numerosi alla cena del 19 giugno. Ok, ci saremo tutti. Una grande Cristina Fugali sarà presente. Con tanti sponsor legati al Babatour. Grazie mille Cristina. A te, buongiorno e buona giornata da Fonte Vivo Golf Club. Con un po' di pioggia ma ci sarà subito il sereno. Per noi c'è sempre il sole. Grazie.